In questo secondo livello verranno coinvolti tutti e tre i colori primari contemporaneamente. A differenza dal primo livello, in questo esercizio i colori proposti saranno una mescolanza dei tre primari messi a confronto. La variazione con un incremento del 10 e del 20% avverrà soltanto su uno dei tre. Ricorda che questo esercizio va ripetuto sbariate volte finché non si sarà acquisita una certa fluidità e rapidità nel riconoscere le differenze tra i colori e la loro composizione. Buon esercizio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!